Teramo domenica all'alba iniziano i lavori per la realizzazione della rotonda del promenade. Politica sui consiglieri delegati e scontro in commissione tra sindaco e minoranza, la delibera rinviata a fine luglio. Crediti inesigibili, la Tema ricorre al Tarre contro la delibera sulla Tari, il Movimento 5 Stelle denuncia, a pagare sono sempre i cittadini. Aere interne, il sindaco di Crognaleto contro la Tua ha tagliato il 30% delle corse. Sport e calcio in casa Teramo arrivano i primi verdetti, Speranza e Amadio restano, Cenciarelli e Scipioni salutano i biancorossi. Buongiorno e bentornati all'appuntamento con l'informazione di Teleponte. Di giugno, dopo domani, alle 5 di mattina inizieranno i lavori per la realizzazione della rotonda all'incrocio del promenade a Teramo. Sì, questo è il punto cruciale, forse la rotonda più importante, oltre a quella di Via Po che è già stata realizzata. Qui iniziamo la mattina alle 5, ci sarà un po' di disagio per la giornata di domenica nei primi due giorni, però siamo convinti che realizzare la rotonda qui sia e fa parte ancora di quel programma di traffico zero ed è il punto dove dobbiamo fare bene. Durante i lavori verranno chiuse anche alcune strade? Sì, verranno chiuse alcune strade momentaneamente, si darà la precedenza chiaramente per ambulanze e soccorso, quindi loro transiteranno tranquillamente. Il transito resterà invariato però sulla strada Rottanta? Sì, rimarrà invariata, l'unica cosa, l'unica accortezza, i semafori verranno spenti in modo che da far fruire il flusso di traffico costante sulla rotonda. Questa rotonda non è che viene fatta in forma definitiva ma bensì ci saranno 20 giorni di studio per vedere appunto su dimensioni e su come collocarla realmente. I tempi per la realizzazione definitiva? Il cronoprogramma parla di luglio, chiaramente cercheremo di mantenere fede a tutte queste date ma non mi fa paura adesso rispettare esattamente luglio, a me mi interessa che la struttura una volta realizzata sia funzionale. Lei vuole fare anche delle prove? Beh, sì, sinceramente non voglio... Dei mezzi pesanti, gombranti. Voglio che qui vengano tutti i mezzi che hanno una lunghezza tale che mettiamo subito alla prova questa rotonda. Voglio fare le prove da qualsiasi ancolazione, da qualsiasi lato, farò in modo che venga l'auto articolato, il tir. Cioè, i mezzi, anche agricoli, devo capire se questa rotonda, così come verrà posizionata, recepisce questi mezzi e come li recepisce perché non possiamo fare nessun errore. Concluiamo questo progetto Teramo Traffico Zero finanziato dalla Giunta Chiodi, portato avanti per buona parte dall'assessore di Giovanni Giacomo e adesso dall'assessore Fracassa. Resta, resterebbe soltanto il semaforo di via Flaiani sulla grande viabilità sul quale stiamo lavorando per eliminare anche il semaforo di via Flaiani. Sul traffico abbiamo fatto tanto in questi anni, siamo soddisfatti dell'obiettivo raggiunto, finalmente Teramo è più una città, è diventata una città più a dimensione Duomo e di questo siamo contenti. Verranno abbattute due piante ma già prima di abbatterle oggi ne stiamo piantumando sei nuove. Per ogni pianta abbattuta due nuove piante. Ancora una commissione dai toni alti al comune di Teramo. Questa volta al centro della discussione la modifica al regolamento per l'introduzione della figura del consigliere delegato in Consiglio Comunale. La minoranza ha attaccato il sindaco accusandolo di voler accelerare i tempi portando la delibera nel Consiglio del 14 per risolvere i problemi di maggioranza. Insomma dare per così dire un incarico a qualche consigliere scontento e ottenere la certezza dell'approvazione del bilancio. Il sindaco ha proposto di spostarla alla fine di luglio passando attraverso tre riunioni a settimana della commissione affari generali servizio. Commissione affari generali al comune di Teramo per discutere della modifica dello statuto per l'inserimento dei consiglieri delegati. Lei sindaco ha fatto una proposta. Siccome mi sembra da parte delle opposizioni che questa istituzione dei consiglieri delegati possa rappresentare o per loro, secondo loro, rappresenti una quadratura politica e così non è. Io ho detto bene, se è così è, se è come dite voi che volete lavorare, entro la fine di luglio porteremo tutta la revisione di statuto e regolamento, visto che ci lavoriamo da cinque anni, stiamo qui per lavorare, faremo tre commissioni a settimana, quindi lavoreremo solo così come i cittadini ci chiedono di fare una volta che ci hanno nominati ed eletti a rappresentare le istituzioni, e entro la fine di luglio porteremo in consiglio comunale revisione del regolamento e revisione dello statuto. D'altra parte ci si lavora da più di cinque anni oramai e credo che i tempi sono maturi. Siccome a me non piacciono le strumentalizzazioni politiche e i cittadini non capiscono, se stiamo qui dentro a fare il teatrino della politica e a rimbalzarci responsabilità, sono stato anche un po' pesante perché così davvero facciamo ridere tutti. E allora io dico, bene, faccio un'ulteriore apertura alle opposizioni, gliene ho fatte già tante, devo dire, in passato, ma tutte le volte poi all'atto di votare hanno sempre votato no. È una loro caratteristica. Prima ci chiedono gli emendamenti, noi glieli approviamo, poi all'atto del voto invece dicono no. Siamo abituati, è durato otto anni, quei sette anni, questo discorso lo conosco bene. La minoranza contestava il fatto che lei, sindaco, aveva proposto la modifica dello statuto in tempi troppo brevi. Ma guardi, in tempi brevi, tutti quanti hanno detto che è pronto nel 95%, quindi adesso c'era la volontà da parte della maggioranza, perché l'onere della proposta tocca la maggioranza, di voler portare i consiglieri delegati, ma non c'è nessun problema. Siamo tutti d'accordo a lavorare incessantemente fino alla fine di luglio e portare questa revisione del regolamento e dello statuto secondo le nuove anche leggi e disposizioni. Bene, se così è, il sindaco e la maggioranza non abbiamo nessun problema a portarlo alla fine di luglio. Ho chiesto un impegno formale a tutti i gruppi, tutti i gruppi hanno detto va bene, questo vuol dire che poi che una volta che abbiamo condiviso il regolamento e il statuto, io auspico che l'approvazione abbia i voti di tutto il Consiglio, perché se il percorso è condiviso poi devono avere i voti di tutto il Consiglio. Però io siccome conosco i miei polli, I know my chicken, poi so come andrà a finire. Il capogruppo del PD, Gian Guido D'Alberto, condivide la scelta di rinviare la modifica dello statuto a fine luglio, ma ribadisce il no convinto alla figura dei consiglieri delegati. La proposta del sindaco di riunire tre volte a settimana la Commissione Affari Generali per arrivare poi a fine luglio in Consiglio Comunale a votare la modifica dello statuto vi soddisfa? Ma in realtà più che una proposta del sindaco è una risposta del sindaco a una nostra richiesta assolutamente sacrosanta di non fare forzature sullo statuto, di ritirare la delibera che il sindaco voleva portare in Consiglio Comunale il 14 relativa all'inserimento dei consiglieri delegati e di rivedere complessivamente lo statuto comunale, così come si deve fare, e il regolamento comunale che è fermo da cinque anni. Questa amministrazione voleva fare una fuga in avanti solo ed esclusivamente per risolvere i suoi problemi politici, perché la questione dei consiglieri delegati, una forzatura da portare nello stesso Consiglio del bilancio, è soltanto il tentativo di creare un appendice rispetto alla crisi di giunta, di accontentare qualcuno e di risolvere i problemi politici di questa maggioranza. Il sindaco però ha detto se alla fine faremo questo percorso condiviso e dunque voteremo in Consiglio poi questa delibera, mi aspetto anche il voto della minoranza. Noi abbiamo chiesto, ripeto, il ritiro della delibera sui consiglieri delegati che ha solo un'emergenza, un'urgenza politica mentre questa città sta soffrendo. Poi rivediamo invece complessivamente sia lo statuto che il regolamento, non abbiamo mai avuto paura di lavorare, peraltro su questi temi, che sono i temi generali che riguardano le regole del gioco che devono essere condivise, noi siamo d'accordo sul fatto di lavorare e quello che abbiamo chiesto e di chiudere la partita anche in tempi brevi. Abbiamo un regolamento fermo da cinque anni e la cosa grave è proprio questa, cioè che il sindaco ha tentato una fuga in avanti per i consiglieri delegati quando abbiamo atti fermi. Voi però ribadite il no definitivo ai consiglieri delegati? Se dettato solo ed esclusivamente da emergenze e urgenze politiche assolutamente no, perché questa città non si può piegare alle esigenze politiche di questa maggioranza che è ormai agonizzante e sta costringendo l'agonia alla città. Se inserite in un discorso delegato con pesi e contrappesi valuteremo poi nel merito articolo per articolo quelle che sono le modifiche dello statuto. Così come il sindaco ha cercato di fare, assolutamente non lo accettiamo. Prendiamo atto di questa marcia indietro da parte del sindaco e siamo pronti a lavorare per rivedere complessivamente statuto e regolamento per creare delle regole del gioco democratiche per questa città. Il sindaco fa proposte oscene. Pretende da noi di votare uno statuto e un regolamento ai quali però non ci consente di apportare modifiche. Lo dice il consigliere arancione Gianluca Pomante che propone di riunire la Commissione Affari Generali il sabato mattina in modo che anche chi lavora fuori può partecipare. Il sindaco ci ha definiti i suoi polli. Io, data la stazza, direi che sono il suo tacchino probabilmente. Spero di non fare una brutta fine a Natale. Ma a parte queste battute, il sindaco fa proposte oscene perché pretende da noi un impegno a votare uno statuto ed un regolamento al quale però non ci consente di apportare modifiche, almeno per il momento perché la Commissione è fermata oltre un anno. Io ho fatto una proposta che dovrebbe mettere tutti d'accordo di fare commissioni cadenzate il sabato mattina per consentire a tutti, anche quelli che lavorano e che quindi hanno impegni a cui non possono derogare, di essere presenti e di partecipare attivamente. Il sindaco ha proposto addirittura tre riunioni a settimana di questa Commissione. Sì, potrebbe anche quella essere una soluzione purché per l'appunto siano anche giorni compatibili con le esigenze di tutti perché non tutti hanno un'indennità da primario ed un'indennità da sindaco su cui poter fare affidamento. Gli altri che non vivono di politica e che non lavorano a terra devono anche poter lavorare. C'è anche chi sulla base di queste mie osservazioni ha chiesto le mie dimissioni e di chiunque non sia in grado di partecipare alla seduta delle commissioni. Ma vorrei far notare loro che è un problema di qualità e non certo di quantità del lavoro svolto. La proposta di farle il sabato mattina consentirà di vedere chi ha veramente a cuore il bene della città e quindi sarà disposto a rinunciare a qualche passeggiata al mare e chi invece chiacchierà soltanto perché ha fiato da vendere ma non collega i neuroni del cervello. La Team decide di fare causa al Comune e i cittadini pagano. Lo denuncia il Movimento 5 Stelle dopo che la società partecipata ha fatto ricorso al Tar contro la delibera sulla Tari che non prevede i crediti inesigibili. Vediamo. La Teramo Ambiente ha fatto ricorso al Tar contro la delibera del Comune di Teramo approvata in Consiglio Comunale sulla Tari nella quale sono stati esclusi i crediti inesigibili da 1.300.000 euro. Esatto. Questo è un'assoluta pazzia il fatto che la nostra azienda partecipata utilizzi i soldi che noi gli diamo come tassa su rifiuti e come anche consulenze legali per fare ricorsi contro il Comune di Teramo contro i cittadini di Teramo per pretendere una quota di 1,3 milioni di euro che dovranno essere esborsati sempre dagli stessi cittadini teramani quindi oltre al danno la beffa e le cose sono due o il Comune di Teramo ha adottato una delibera in piena violazione di legge e quindi i consiglieri comunali se ne assumeranno la responsabilità oppure il Sindaco non ha più alcuna autorità e non riesce a bloccare questo sperpero di soldi pubblici questo doppio sperpero di soldi pubblici Secondo lei perché la Team ha fatto questo ricorso contro il Comune? Evidentemente il Sindaco non ha più il polso della situazione non riesce più a seguire le norme di legge non riesce più a seguire e ovviamente a contrastare l'amministratore delegato e quindi lo strapotere all'interno della Team Voi cosa proponete? Noi ovviamente pensiamo che la questione deve essere dibattuta all'interno del Consiglio Comunale si devono sentire le parti e ovviamente sarà il giudice a stabilire dove sta la verità anche se la questione è molto complicata tuttavia con un Sindaco forte e con un'amministrazione forte tutto questo non si sarebbe verificato Il Sindaco di Crognaletto Giuseppe D'Alonso annuncia una dura battaglia contro il taglio delle corse dei bus della Società di Trasporti Regionali TUA nelle aree interne Ascoltiamo Come se non bastasse la batosta a danno delle aree interne sui recenti strumenti programmatori siglati da ultimo e ancor più il silenzio assordante da parte di tutte le rappresentanze politiche arriva anche il taglio dei servizi pubblici per intenderci ex ARPA nelle aree dell'introterra della montagna proprio così a far data dall'8 giugno il taglio indiscriminato adoperato dalla neosocietà TUA a partecipazione regionale inciderà quasi del 30% solo sulle aree interne ponendo fine anche al collegamento con il lago di Campotosto e quanto afferma il sindaco di Crognaletto Giuseppe D'Alonso uno sciagurato provvedimento spiega che bando alle chiacchiere produce un vero dissapore della collettività montana verso coloro che lo hanno professato ed adoperato sembrava ci fosse una sorta di comprensione almeno questo è quello che ha scritto il consigliere delegato ai trasporti della regione Abruzzo in una nota di convocazione dei sindaci abruzzesi salvaguardare le aree interne tanto è che nella riunione tenuta esappescara ad inizio anno con tutti i sindaci per discutere sulla necessità di ridimensionare il chilometraggio nella regione Abruzzo riuscimo a strappare una sorta di consultazione per le aree in modo da valutare al meglio le situazioni per poi adoperarsi adeguatamente ed incidere il meno possibile sul disagio dei cittadini invece poi quanto inteso si è tradotto in un colloquio tra singoli sindaci e tecnici della regione e della società TUA e nemmeno su proposta concordata ed inviata con soluzioni intelligenti ed ottimali per ambe le parti si è avuto quantomeno risposta se non il taglio delle corse come si può parlare di rilancio del turismo nelle aree interne e prosegue da Lonzo come si può mantenere uno scalo aeroportuale importante come quello della Ryanair di Pescara se poi al turista olandese non si dà la possibilità di arrivare fino al lago di Campotosto perché il pullman fa capolinea d'Ortolano mentre il sistema toglie servizi e territori in contropartita nomina un nuovo componente del CD a TUA non ci sto conclude da Lonzo venderò cara la pelle intanto chiederò un incontro al prefetto di Teramo per denunciare il disservizio che si sta creando sul territorio e se ciò non bastasse farò le ulteriori valutazioni ritenute necessarie I bambini abruzzesi sono in sovrappeso e teledipendenti è quanto emerge dal report di Occhio alla salute che ha coinvolto 1313 bambini delle scuole primarie I bambini abruzzesi mangiano male e guardano troppa televisione sono i risultati principali che emergono dalla quarta edizione del rapporto Occhio alla salute il sistema di sorveglianza nazionale dedicato all'infanzia del Ministero della Salute In Abruzzo l'indagine ha riguardato 1313 bambini della scuola primaria ed è stata realizzata dal servizio prevenzione collettiva del Dipartimento per la Salute e il Welfare in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale Il focus era incentrato sul stato ponderale abitudini alimentari motori e nutrizionali e sul tempo libero dei più piccoli I dati riferiti al 2014 hanno evidenziato che nella nostra regione il 27,2% dei bambini è sovrappeso ed è il peggior dato italiano dopo quello della Campania a fronte di una media nazionale del 20,9% di questi l'11,4% è obeso contro il 9,8% tra le cause principali c'è la merenda che nel 66,8% dei casi è risultata ipercalorica o è elevata densità energetica per il loro peso uno score che si discosta di ben 15 punti dalla media nazionale le cattive abitudini al mattino invece sono più in linea con il dato italiano il 32% dei piccoli abruzzesi fa una colazione inadeguata la media nazionale del 31 e il 6,9% non la fa per niente in Abruzzo però i bambini ci vedono meglio che altrove porta gli occhiali infatti il 17,7% del campione intervistato contro il 19,1% del dato nazionale a Teramo i residenti di via Tirso e via Mannoia lamentano l'assenza di illuminazione pubblica da giorni questa situazione spiegano i cittadini favorisce il verificarsi di episodi vandalici ieri ad esempio approfittando del buio alcuni ragazzi hanno dato fuoco ad uno steccato prima che possa accadere qualcosa di più grave chiediamo al comune di ripristinare al più presto l'illuminazione grande festa nella frazione Teramana di Viola da oggi fino a domenica 12 giugno tra pane, olio e musica popolare pane, olio e musica popolare questo è il tema di una manifestazione organizzata dalla proloco di Viola nella frazione Viola di Teramo che prenderà il via oggi e si concluderà domenica una manifestazione di fatto dedicata alle tradizioni popolari sì l'evento olio, pane e musica popolare mira proprio a questo cioè quella di valorizzare il territorio il territorio della frazione di Viola che è un territorio contadino dove gli elementi principali della dieta sono appunto l'olio e il pane qual è il programma della manifestazione? allora l'evento è unico unico per quanto riguarda il comune di Teramo ce ne sono state di manifestazione in passato ma sono rare e una delle prime volte che si parla dell'olio e del pane abbiamo pensato di dare risalto a due tra gli elementi principi della dieta mediterranea il pane e l'olio delle nostre colline olio dopo appunto ci saranno degli incontri tematici ma anche delle serate in musica sì allora è importante ricordare che avremo due seminari il sabato mattina si parlerà del pane quindi le farine le tecniche di lievitazione e le tecniche di cottura questo per quanto riguarda il sabato mattina la domenica mattina invece avremo un seminario sull'olio l'olio extravergine denominato oro giallo delle colline di Terramane e chi si esibirà invece nelle serate musicali? ecco per quanto riguarda questa è la parte un po' più culturale mentre la sera ci raccoglieremo in piazza insieme a dei gruppi musicali abbiamo la fortuna di avere un richiamo importante che è Gigione e poi anche una realtà locale una band locale del nostro rappresentante Tonino Matteucci torna alla grande danza con la scuola backstage dance academy di Terramo domenica 12 giugno alle 21 presso il Cineteatro Comunale di Terramo sarà presentato lo spettacolo rumori in scena interamente dedicato alla danza contemporanea domenica 26 giugno invece alle 21 e sempre presso il Cineteatro Comunale di Terramo si terrà invece il tradizionale saggio di fine anno a Santonofro di Campli domani torna aperi post tra sport e solidarietà torna a Santonofro di Campli l'aperitivo solidale con l'iniziativa aperi post 2016 un'esperienza di social street a fini benefici insomma cosa dobbiamo aspettarci per sabato 11 giugno dalle 18 in poi speriamo innanzitutto che il tempo regga la migliore cosa perché questo inizio di giugno ci sta dando un buon fastidio da un punto di vista meteorologico dopo il successo di anno scorso con la prima edizione il Comune quest'anno ha creduto fortemente a questa manifestazione molto originale e caratteristica che si occupa non solo di far divertire i cittadini ma anche di sociale e quest'anno c'è anche diciamo delle iniziative sportive il programma è molto vario e ci sarà veramente da divertirsi inizieremo alle 16 con la Perisport dove grazie alla collaborazione del Real Volley e del Nova Basket di Santonofrio vedremo sfidarsi bambini e genitori a match di pallavolo e di basket per l'appunto proseguiremo poi con alle 17 potremo degustare vari stuzzichini e aperitivi nei vari locali che prepareranno per l'appunto ognuno una particolarità diversa ad ogni locale sarà affidata una fermata stile metropolitana e ad ogni locale sarà assegnato una band o gruppo musicale diverso avremo quest'anno tra i partecipanti spaghetti rock'n'roll che è un trio scatenato che ci farà parlare al suono di rock'n'roll abbiamo Osvaldo Bianchi e Luca Mongia che sono una cover del mitico Rino Gaetano poi abbiamo la fantastica voce di Luca Mancino cover anche lui di Luciano Ligabue i Revolver Quartet che invece ci faranno spaziare dal funky al blues ed infine Giradischi che è una band che ci farà rivivere la musica degli anni 50 e 60 durante la manifestazione ci sarà all'istituto uno stand per la raccolta fondi a favore della Caritas ospite d'eccezione è il mitico e simpaticissimo Stellina che ci farà fare sicuramente tante risate e tutta per tutta la via per tutta la social street troveremo clown trampolieri che comunque si aglieteranno un attimino la serata previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone appineniche sereno sulle zone costiere in serate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sui rilievi sereno sulle zone adriatiche temperature stazionarie massimi comprese tra 20 e 23 gradi nelle conchie aquilane marsicane tra 26 e 29 gradi sulle piane adriatiche venti deboli settentrionali mari quasi calmi in provincia di Teramo al pomeriggio variabile con deboli rovesci di pioggia sui settori appenilici sereno sui settori costieri in serate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia lungo la dorsale sereno sulle aree adriatiche temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 26 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 25 e 28 gradi sulle coste venti deboli settentrionali mari quasi calmi o poco mossi il teramo continuo a lavorare sul mercato per dare al nuovo allenatore Lamberto Zauli i giocatori funzionali al suo progetto tecnico nella settimana in cui si sta discutendo sul destino della vecchia guardia le certezze sono il capitano Ivan Speranza il metronomo di centrocampo Stefano Amadio che come annunciato dal presidente Luciano Campitelli resteranno in Abruzzo anche nella prossima stagione a salutare i biancorossi invece con ogni probabilità saranno Stefano Scipioni e Diego Cenciarelli che hanno espressamente chiesto alla società di essere ceduti e il club di Via Overdan è disposto ad accogliere la loro richiesta settimana importante per il destino del calcio Giuliese in questi giorni il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro incontrerà diversi gruppi di imprenditori che hanno manifestato la volontà di fare qualcosa per il calcio Giuliese un gruppo è stato già incontrato dal primo cittadino nella giornata di martedì un altro gruppo doveva essere ricevuto oggi ma Mastromauro ha dovuto rinviare l'incontro a causa dei si impegni istituzionali giovedì in fine ci sarà un altro colloquio con altri imprenditori interessati intercettato da Teleponte il sindaco Mastromauro ha detto stiamo lavorando con l'intenzione di rilanciare tutto il movimento calcistico giallorosso dobbiamo ripartire da zero e senza dare importanza alla categoria il Montone 88 ha un nuovo allenatore si tratta di Roberto Marini il tecnico arriva dopo l'esperienza della passata stagione sulla panchina del Tossicia in promozione l'11 e il 12 giugno a Montaglio Alvomano si terrà il torneo di calcio dedicato alla memoria di Antonio D'Innocenzo l'allenatore della squadra femminile di calcio a 5 in Montorisi è scomparso a 51 anni nell'aprile scorso il servizio un weekend all'insegna del calcio a Montorio Alvomano con il torneo di calcio giovanile primo memorial Antonio D'Innocenzo 600 atleti 50 squadre femminili e maschili insomma disputeranno tante gare un appuntamento piuttosto importante Sì il torneo arriva alla terza edizione quest'anno verrà dedicato al nostro compianto Antonio D'Innocenzo che faceva parte dello staff organizzativo ed era il mister della squadra della squadra femminile il torneo come hai detto si svolgerà in due giorni 11 e 12 a Montorio richiamerà la partecipazione dei ragazzi che vanno dai 5 ai 14 anni circa 50 squadre 600 atleti in totale sarà una bella una bella manifestazione impegnativa Una manifestazione che naturalmente si svolgerà nello stadio di Montorio al Bumano Sì si svolgerà al Pigliacelli di Montorio sono stati direi diversi problemi prima di arrivare a questa alla scelta del campo Per quali ragioni? Dai non vorrei fare polemiche ma diciamo abbiamo avuto degli ostacoli che stiamo e pensiamo di aver superato evitiamo polemiche però ci sono stati dei problemini che ci hanno ostacolato un po' il percorso Questa manifestazione comunque porterà a Montorio al Bumano anche tanta gente nuova? Sì il torneo è a carattere regionale e a carattere regionale quindi richiamerà squadre che vengono da Pescara Aquila Chieti Sul Mona il torneo è molto importante ci teniamo in particolare ribadire il torneo femminile che è il nostro fiore all'occhiello direi vorrei ricordare anche un particolare un paio di cose l'organizzazione dell'Alba Giallonera la società la scuola calcio in collaborazione con la Montauri e all'evento a seguire dell'evento sportivo per i ragazzini sarà un quadrangolare del cuore dedicato proprio al nostro Antonio di Innocenzo il quadrangolare è organizzato con la partecipazione di Don Matteo il parroco di Leoniano e tra quattro squadre impegnate nel torneo noi rappresentanti dell'Alba Giallonera e Montauri la rappresentativa di Don Matteo di Leoniano la rappresentativa dell'amministrazione comunale e del Montorchio 88 il basket e la Proger Chieti si è assicurato il nuovo play per la prossima stagione di Serie A2 si tratta della classe 90 Mattia Venucci Venucci lo scorso anno è stato eletto miglior giocatore italiano del campionato di Serie B con la maglia del basket golfo Piombino si svolgerà lunedì 13 giugno alle 21 presso il giardino di Villa Filiani a Pineto il primo gran galà dello sport premio stela dello sport nel corso della manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale che in caso di maltempo si terrà presso la sala teatro del palazzo polifunzionale di città verranno premiate le personalità e le società del territorio che nel corso dell'anno si sono distinte per i loro meriti sportivi ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale prima di salutarvi vi ricordo che al termine di questo TG andrà in onda uno speciale sulla banca di Teramo buon pomeriggio di teramo di teramo di teramo Grazie a tutti.